Invece questo è il credito artigiano, associazione artigiani Milano e provincia, ma voglio farle vedere tutte perché queste immagini, siccome gli assegni venivano molto usati, ricorderanno a tante persone che li usavano un periodo storico che riguarda il nostro paese, la nostra moneta, le nostre usanze, i nostri costumi. Infatti io per esempio prima avevo la Banca Popolare di Novara tantissimi anni fa e ho riconosciuto nel mini assegno l'intestazione degli assegni che avevo nel mio blocchetto come avevano tutti in quel periodo, che non si usavano carte di credito ma la sostituzione del contante era solo ed esclusivamente affidata agli assegni, a questi blocchetti, questi check. Cioè hai i check normali, questi è un mini check, però diciamo che l'intestazione della banca e dell'assegno era identica e quindi noi ci riconosciamo lo stesso tipo di assegno, solo che è un po' più piccolo in questo caso.